Welcome ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È da tantissimo tempo che non faccio video, almeno 7 mesi, ho abbandonato anche un po' Top Eleven, ma lo sto riprendendo. Guardate che squadra mi sono ritrovato, 42% ragazzi, sono undicesimo nella stagione e praticamente non mi resta che fare quello che vi feci vedere una volta in un mio vecchio video, magari vi lascio in sovraimpressione. Non dovrò fare altro che praticamente retrocedere e provare a ricostruire la prossima stagione la squadra, magari poi farò un video per farvi vedere un po' i miei movimenti. Vediamo un po' la formazione che ho messo, ovviamente è una formazione per perdere tutte le partite, quindi un attaccante in difesa, ho cambiato un po' di tutto, non ci resta che retrocedere e poi intervenire l'ultima stagione. Farò un video su questo. Oggi però vi parlerò di come possiamo fare una formazione abbastanza offensiva. Oggi vedremo il 3-4-3 ragazzi. Approfittiamo di questo momento di stallo, visto che devo attendere la fine della stagione, per mostrarvi una nuova formazione. Questo è un 3-4-3, che poi sarebbe un 3-1-3-2-1. Praticamente sono 3 difensori, un DMC, poi un MR e un ML, che ovviamente non fate caso schierate un difensore, poi una MC e poi una MR e una ML, per finire con un attaccante. Questa è una formazione ragazzi molto offensiva, che però possiamo bilanciare dalle tattiche. In questo caso metteremo mentalità difensiva, che poi volendo potremmo cambiare in normale, obiettivo passaggi entrambe le fasce, stile passaggi lasciamo misto, contropiedi on, cioè sì, visto perché saremo in fase difensiva, quindi partiremo sempre in contropiedi. Dobbiamo puntare su questa tattica. Pressing basso, perché ovviamente avendo 3 difensori non dobbiamo farci cogliere diciamo noi in contropiede, quindi mettiamo pressing basso. Stile contrasti normali, marcatura metto a zona, onde evitare che i difensori si spostino e lasciano scoperto una parte del campo, visto che già sono solo in 3. Trappola del fuorigioco no, perché ovviamente la trappola del fuorigioco con uno stile difensivo, diciamo che non funzioni tanto. Se proprio la vogliamo usare la trappola del fuorigioco e quindi dobbiamo mettere sì, ovviamente dobbiamo staccare i contropiedi perché ovviamente non avremo più una tattica attendista. E mettere una mentalità normale oppure offensiva in modo da sfruttare, diciamo, questo niente poco di meno che batteria d'attacco. Ragazzi noi ci beccheremo con altri video al momento che arriverò al livello del calendario che ho una o due partite, praticamente metteremo in pratica tutte le tattiche per poter rinascere di nuovo. Io ho trovato questa squadra incredibile, scarsissima, sono stato fuori per un po' di mesi e mi ha sostituito con gente di 40-45%, uno schifo praticamente. Però questa è un'ottima occasione per ricominciare e fare altri video. Alla prossima ragazzi!